Sabato torna una nuova iniziativa dell'associazione Palmaria Si Masterplan No, un'asta pubblica su cosa verterà quest'asta. Siamo riusciti noi di Palmaria Si Masterplan No a organizzare un evento a cui teniamo moltissimo, un'asta benefica il cui ricavato sarà completamente dedicato alle attività e progetti che abbiamo in mente per la tutela e la salvaguardia dell'isola. Sì, sarà sicuramente un momento estetico, sono invitati molti pittori, ma un momento anche etico di dibattito su cui si può parlare della situazione dell'isola. Siamo riusciti a organizzare questa asta benefica con il contributo e la generosità delle artiste e degli artisti che hanno deciso di omaggiarci delle loro opere. Potrete trovare Perrucca, Michi, Melis, Ferrari, Tomaino, gli altri non li dico, così sarete costretti a venire. Noi di Palmaria Si Masterplan No crediamo che l'isola debba rimanere il miracolo che è oggi, quindi un piccolo territorio che è sfuggito alle logiche di privatizzazione e di speculazione edilizia. Non siamo contrari al turismo, pretendiamo però un turismo che sia sostenibile, rispettoso, di apprendimento e perché no anche di immersione nella natura pure incontaminata che l'isola offre. Tutto questo deve essere supportato dai servizi ed attività di manutenzione che non siano per forza legate all'attuazione del Masterplan. Tra l'altro giusto oggi abbiamo scoperto che martedì prossimo si discuterà in comune l'avanzamento delle pratiche di vendita edilizia e quindi è un'occasione perfetta per dimostrare la nostra presenza e far sapere che comunque noi ci siamo. Dove si svolgerà l'asta? L'asta saremo ospiti del Sun Space, per chi non lo sapesse sono i vecchi spazi del Cinema Diana in Via Sapri, sabato 17 dalle ore 17. Quindi vi aspettiamo numerosi se anche voi credete nel nostro progetto. Grazie.